Diciamo che avendone subita tanta domestica da bambino trovo che sia giusto aiutare le donne e i bambini soprattutto che si trovano in casi difficili come quello mio che ho vissuto io nel mio vissuto. Quindi sono anni che collaboro con Pangea in maniera molto attiva in Italia, in Afghanistan, in India e quindi aiutiamo i bambini e le mamme a fuggire da casi molto difficili dove magari la situazione economica è difficile. Per cui Pangea provvede a tutte quelle necessità appunto quando una donna si trova da sola senza un uomo e senza i soldi per cui vengono protetti, portati dentro a un centro, aiutati a studiare i bambini e a lavorare le mamme insomma. E quindi in questo modo noi siamo riusciti a mettere insieme tanti soldini con l'aiuto delle persone che sostengono Pangea. E quindi in questo modo noi siamo riusciti a mettere insieme tanti soldini con le persone che sostengono Pangea. E quindi in questo modo noi siamo riusciti a mettere insieme tanti soldini con le persone che sostengono. E quindi in questo modo noi siamo riusciti a mettere insieme tanti soldini con le persone che sostengono Pangea. E quindi in questo modo noi siamo riusciti a mettere insieme tanti soldini con le persone che sostengono Pangea. E quindi in questo modo noi siamo riusciti a mettere insieme tanti soldini con le persone che sostengono Pangea. E quindi in questo modo noi siamo riusciti a mettere insieme tanti soldini con le persone che sostengono Pangea. E quindi in questo modo noi siamo riusciti a mettere insieme tanti soldini con le persone che sostengono Pangea.